Ciao a tutti ragazzi, sono Daerna e benvenuti nella novantesima puntata della serie NFM e oggi siamo qui con Sisono e ciao a tutti Grego ciao a tutti Non so, capito, la sabbia o quell'altra? Quell'altra cosa che non si chiama Chies, no, Chies con l'altra Oh, ma no, per Dio No, ma, alla fabbrica di Diesel abbiamo compost ancora? No No E Grego comunque ci sta andando Eh, no, adesso io sto andando a vedere alla fabbrica quella dovevamo portare barbabietole Colore di merda Non ce n'hai più neanche là Porca di quella Vai a controllare, ma No, no, vai a controllare, vai a controllare Mo te mazzo io Perché magari è andato un po' sul tempo, cioè non mi ricordo, sono alzato il tempo Rub, cos'è che è? Ruben, no Ruben, no, 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 ce ne sta 800, che vuoi fa Molte scagne Sono per la schiena Ora ci sono da caricare i pallet di... tutte le pallet di legna qua Dove devo portare la sabbia? Al cementificio Ce n'hai ancora da caricare di sabbia? Eh, una cifra E allora adesso arrivo Ma sarebbe meglio caricare il cemento Eh, carico il cemento Ci vorrebbe un carro che autocarica i po'... Cemento non ci sono mica i sacchi di cemento, sì Non ci sono i pallet di cemento Nooo Ci vorrebbe un carro che li autocarica, perché sai che sbatti Eh, io ce l'ho avviso per i cappelli, devi cargare Eh, non dirlo a me Oh, pesa la cambia Allora, questi qui Square Baves Ma non sta qui la fabbrica Naota? Sta qui dove sono io, ci sono io Ah, egli lo È talmente lungo sto campo che mi sono perso Ma la sabbia dove va cargata? Eh, sotto a... Eh, dove sono io più o meno Sì Mo' troviamo lo bucchetto Ah, starà questo In Grego ha sempre avuto dei problemi a trovare il buco, ma è Diciamo la verità, hai sempre avuto dei problemi Non mi è ancora capitata l'occasione Chi è se? Nessuna sa mai... È uguale, è una di due Nessuna sa mai detto sono pronta a prenderlo L'aereo L'aereo, eh, parlo Alla, giustamente Per una vacanza a Los Angeles che non è mai stata Perché quest'anno è stato l'anno del covid quindi non è mai successo Io con quindici euro vado a Londra Ma se non fosse perché io l'avrei già fatto, eh Però c'è sto covid di mezzo Di mezzo Eh, di mezzo Oltretutto, credo tu, sei in zona gialla Te non cambia niente praticamente, io sono zona rossa Vedi, voi fate fiesta, movita Tutte le sere ti trovi con i tuoi amici a far casino Ma quando? Ma dove? Quindi voi siete la rovina dell'Italia Ma dove? Non posso manco più uscire, non posso mettere il naso fuori casa Lascia stare la foto della... Fai conto che di non aver visto le foto che ti ho mandato oggi, eh, però Io c'ho l'autocertificazione che c'è scritto Posso fare quel che mi pare Ne niente, niente, niente Ne Ecco, non ci sta le ma Ma che dici? Ma che dici? Ma come non ci sono male? Ho appena messo Non ci sta le ma A te ti aspetti che ricarico questa roba Se no non ce la faccio la dizzante Samo? Sì, Samo Grego? Sì, so io Andiamo al recinto dove ci sono i cavalli Fa, perché? Eh, a vedere i cavallerizi I cavallerizi? Mi fa spaccare come avevi detto la parola cavallerizi Cavallerizi No, l'avevi detto meglio prima, l'altra volta È unico e ripetibile probabilmente quella volta È come Simo quando gli dici Simo, dimmi un bo Cos'era più che gli avevi detto di dire, Samo? Vadoenne Che ti posso fare? Che se posso fare? A me le cose mi vede spontanee Che te posso fare? Arrivi tu Fammela Che te posso fare? Un gin tonic, grazie Va bene che cerca di starmi dietro Ma io faccio 63 Anche giù dalla fattoria Anche fuori dal server? Ridi, ridi Ridi, uno Qualcuno in fabbrica da Samo ne fa sei in più Di quanto? Di 63 E' sì, ma fa 89 Potta la strada Vabbè Sì, tu un po Qua devi metterla Dove vai? Qua Dove vai? Buongiorno Eh, mo mi giro E' giro E' giro lì 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 Poglio E' giro E' giro lì lì Mo mi tiri dentro Perché lo so Che manovra stai facendo Strano 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 Ma dove vai? Guarda che ti incolli tutto Monti dappertutto Sei proprio in un periodo Eh, ce l'ho a testa altrove E quell'altrove si chiama Cortina? No, no, basta, basta Come si chiama? Purple Discomachine No, aspettami Che andiamo insieme Ma se tu vai più veloce Poi mi recupero Io impenno un pochino Tanto io vado a casa ora Che prendo il carro E comincio a caricare un po' di pallet Sempre che ne abbia voglia Perché voglio metterle a pecore Allora, entro la centissima puntata Dobbiamo finire, sapete? Eh, ce l'abbiamo ancora 11 reti Perché mi hanno detto Mi è stato detto anche nei commenti Che non gli piace Stranamente Penso sia il primo commento Dopo anni e anni Mi è stato detto Che sono stufi di questa serie Chi è che vai detto? Eh, uno Giuseppe? Massalo No, si chiama Eh, non so come si chiama Beh, no Privacy Policy, privacy Ho il cellulofono qua Lo prendo e te lo dico Mi sembrava un nome Con la R Tipo Ora te lo dico Che sta uscendo una mappa bellina Che ho addocchiato Però uscirò il 13 di 11 I Ivan Ivan me l'ha detto Sì, il 13 di 11 è tra quattro giorni Eh Ciao lì Ciao Che fai alle dieci e mezzo? Bocchia alle dieci e mezzo? Questa ora? Sì, ma la vera domanda è Io, ok, che sono in zona rossa Non posso uscire Ma voi cosa ci fate Sabato sera qua? Eh, ragazzi Eh? Avete qualche problema, eh, voi? Nicù può uscire alle dieci Sì Sì, ho capito Ma è sabato sera Eh beh E fino alle dieci puoi uscire? Sì, ma Porca madonna Sono in costa l'Opa Hai bestemmiato Volevo non bestemmiare Ma è riuscito a bestemmiare Anche senza volere Ma Io e Grego Dobbiamo caricare sabbia Io ho perso la zavorra No Dove sta? No Ma come hai perso la zavorra? Sta qua a vostro io Grego Qua Attacca l'ampo, tu? Tu siamo già a zavorra? No, tra due nero Poi me la dai Un'altra volta Ah, giusto Sai quello L'ho appena vista, Elia Perché tipo Ho guardato sulla mappa Ho visto che c'era un puntino staccato Ho detto Boh, chissà perché Non voglio fare domande Poi adesso che hai fatto quella domanda Mi è venuta in mente Ma sì Perché io qui Mi sono cappotato E schiacciavo il culo a caso, no? Un po' alla E poi Adesso mi sono accorto Ma io Sì, si capace di cappotato E su un retellino Samu Eh, non c'è stato uno stupido che mi ha già abbottato? Samu Eh Do sta la tua zavorra? La mia zavorra da cosa? Di il giudizio Quella che ti spendi sul naso Non lo so, dove sta Perché? Mi sono fatto bene nell'ora E sorride, voi che ti ridi? Ti ridi stup... Ma c'è come no E allora c'è E allora c'è Allora io ogni viaggio da andò 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 a San Grego Dobbiamo caricare le palette Ma ma ci pensi da, no io Ci pensiamo tutti Dai, prima finiamo ricarica la sabbia e la ghiaia e prima fine Ma basta che sabbia e ghiaia, non ce ne è, non ce ne occorre così tanto cemento Dopo che ti guardiamo Che ci rimaniamo a fare la casa? Ce ne abbiamo tipo 2-2 mila chili là dentro Come le saluti, la cosa si boccato 2 minuti fa Eh, c'è stato uno scappo Ciao, lì, una serata Ciao Ciao Accettavo un mio consiglio Dene, che ti guardiamo dopo Ancora Nassù, nishù Nishù, 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 fammi pensare di stra Dai Poi vediamo Non farle ndm Che poi mi è glm Ovvero girano le morre Delle ghie Mi credo come al solito sopra il contratore, sopra il mio Ci abbiamo ancora un sacco di campi da trebbiare Ci pensa Simmo quando entra, quel lì Mi faccio l'ultimo gara de Gaia e basta De Gaia? Cognome? Perizzari Non mi piace Soprattutto entrare gli schiavi 2005 a lavorare Schiavi 2005 dove sono? Ah, quello, quello con Ho capito Ho capito Quello con lo squarno, guarda, si pierda 76 No, ma che, quella è 2007 Eh, cosa? Federico? Eh, Federico e Lamborghini, non possono entrare a lavorare? 2005? Sì, tutti i 2005, so Eh, sabato sera A parte che loro Almeno Federico è in zona rossa Perché mi sta a 20 km neanche In zona rossa guarda il trebbià Monte Rubbia? Eh, andiamo a Rubbia Eh, lo monte non c'è sta più Eh, sei spianato Ma veramente? Ma che te sai? Eh, chi da Samu io? No, non mi sta più Hanno tirato giù il monte? Sì, abbiamo avuto o è serotto Si è rotto Cos'è il mio? Il mio? L'erosione è successa Erosione? Le placche tettoniche si sono erodute Come si chiamavano le placche? La tettonica delle placche? Veramente la tettonica Sì, eh Eh, perché non c'ho mai riso su? Perché non c'era da ridere Per forza Dai, io è che riesco Dai che riesco a evitarlo Sì, ne la faccio Rischi di darlo? Non ho capito Ho evitato No! Aiuto Ridistardo! Oh, non difamate Non difamate Non difamatevi tra di voi Oh, ma per questo dato hai già lo tappo blu Tappo blu, corro con il mio frale Hai messo all'io No, va bene Ah, che vuoi il tappo blu? Dai, il mio manito Ma perché prima mi hai messato Dile la zavorra mia Dile la zavorra mia Perché lì te l'ha nascosto Dile la sera Hai boccato? Te l'ha nascosto la zavorra Io la vedo dalla mappa Sì Però te ne dite Ora che te lo diciamo La vedi dalla mappa No, quando Cioè, già te la sei lasciata indietro Cioè, adesso devo andare a cercare Però penso che la trovo Io non c'ho di gasolio sul mezzo Che noia, che barbacarba Eh, anche io ho mezza tacca, eh Eh, anche io ho mezza tacca, eh Cioè, un quarto, nel senso No, mezza tacca piccola hai? Eh, eh, eh Eh, io no Io ne ho meno di un quarto Cioè, ho tipo Sei millimetri, tipo Ho l'autobluio Eh, vabbè Ma cosa, che sai La sabbia? Che dobbiamo farci? Il cemento Per fare? Per venderla Per Si bagna parecchio? Ah, non lo so Io Lo stiamo caricando adesso Ci vorrebbe veramente Un carro autocaricante Perché così Ci si allungano Fino per terra Eh Ah, infatti no Eh, aspetta Una volta Stavo a dire Ma perché c'è la zavara di Grego? Tipo fai R col carro? Ma perché c'è la zavara di Grego? Eh, perché Prova Posso provare a fare R col carro? Dai, ne Prova Eh? Prova Eh, aspetta Devo mettere Porca Io spero proprio che funzioni Ma ne dubito fortemente A parte c'è un carro molto frutto Sennò Ma non vuol dire Il cemento frutto mo Che c'è ma nevo come frutta a merenda Lo cemento Non lo carica Non lo carica Va fanciulo Eh Ora sposta Ma guarda che 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 Ah Scusame Scusame E Vorne E arrivo a quell'altro col vorne qua Eh Dai Dov'è il Il Massey Ferguson Eh Ti sei scelto proprio dei Dei malati mentali Tim Eh? Ti sei scelto proprio dei malati mentali cos'è un po' su questo se non siamo mati noi non li vogliamo ma posso posso agli anni dove stai tu fai quello che vuoi se non sono matti noi non li vogliamo no se sei mai mai sono bianchi eh ci sono tanti ha fatto la battuta grego tu spera che non ti trovo con un carro pieno di una cosa che ti sgresso fino a ma sto da parte della mappa io che vieni a fare qua noi ridiamo e scherziamo ma l'anno scorso c'era lei ma oggi due anni fa c'era lei ma poi tipo l'anno scorso ha detto che voleva fare tipo il 20 gennaio io ho saltato a scuola per andare a lei ma quanto sono imbruttito ma ora non sei milanese io volevo andarci a uno scorso cioè dobbiamo andarci tutti però sì tanto lo so che se non fosse stato per il covid avresti trovato un'altra scuola probabilmente hai inventato tu il covid per non venire a lei ma sai la fa da lui l'hai inventato tu? sei andato tu a one? ma guarda io babbo gli avevo detto i biglietti ci stavano in giro dei biglietti quindi ma sapete che possiamo farlo ancora? non è che sta con dire stranzare proprio di c***a fine non è che non ci dici vengo vengo poi non ci vai come zeppa no veniva anche Marcelle? no in realtà di bollare andava a babba e mamma e andava a farsi in giro per Milano a Milano sta lei ma a Bologna stai scito stai scito ma sai che possiamo andarci lo stesso anche quest'anno a vedere lei ma sì lo creiamo noi no ma ha detto Daniele che lo fanno online tipo fanno una conference call tipo sì c***o sì come fanno a tenere dentro 10.000 persone in una conference call che serveranno? no ma lo fanno solo io overpowered Daniele mi ha detto che lo fanno via web tipo eh c'è tipo le riprese che c'è sta? penso che sì non lo so ma l'ha detto Daniele non è che mi sono fatto spiegare tanto perché quando me l'ha scritta avevo molto di meglio da fare quindi eh beh immaginiamo noi ovvero caricare i pallet con Grego sì e quindi non è che mi sono interessato più di tanto a lei ma ho detto in quel momento a lei ma non me ne poteva fregare di meno anzi eh beh probabilmente non ti eri ricordato di mangiare il telefono chissà cosa dovevo dire dovevo ricordarmi quella volta Alexa magari è una roba importantissima e adesso le pagherei per tutta la vita perché non hai mangiato il telefono scusa ma tanto ho preso il dosso e mi ha respinto indietro qui oh devo andare al fend o la metto? eh nel box del fend ma te la del muso poi ci penso il proio ah te ha detto la zota da Gendir mio? senza guardare la mappa c'è caccia il tesoro vabbè dentro il fosso si è in giallo non so, ho stato io vabbè è lì è lì è andato via, non c'è lì lo so non puoi incolpare persino che non ci sono esatto mai, educazione a no? eh no Io mi ricordo Quando Io tipo Una volta la prof Cioè non mi ricordo che prof c'era Comunque qualche prof nostra Era mi sembra una femmina Italiana probabilmente Fa che non si poteva parlare degli assenti E tipo Al momento di interrogare Un mio compagno è andato in bagno Cioè tipo Avrebbe interrogato Lui è andato in bagno Quando doveva chiamare Ha fatto apposta E poi è entrato E non sapeva che se l'avessero chiamato o meno E fa Però se mi hai estratto Non è valido Perché non si può fare quegli assenti Tipo una cosa così Ma l'aveva fatto in un modo che Tipo stiamo scoppiati tutti a ridere per dieci minuti E dove hanno andato l'altro? No eh non me lo ricordo Non te lo so dire Però non aveva anche modo Non me lo ricordo Non se lo ricorda Prova di formare in altro modo Sai lui bisogna dirglielo un paio di volte le cose Ora magari mi chiede Ma com'è andata la sua interrogazione? No no Ecco sapio io che succedeva Cuscii Sì e poi sopra di me pure Oh dai Fai come simone il best moment Qua è l'impello L'avete vista quella Quella Quel video Di quello lì Alla fermata dell'autobus Che c'è tipo lo scudo Davanti sulla faccia C'è tre tubi di corrugato Dietro la testa Che è il corrugato scudo? Tre tubi Guarda che levano le mani Ma chi le ha levate le mani? Grego Nishu no Non so se neanche come si fa Ha fatto bene comunque No abbiamo un F8 per il bias Sto tracciato vero? Sei in volo pure Sto tracciato Sto tracciato Sto abbiamo un F8 tipo Terrabile del film Stai facendo laggare anche me Tu pensa un po' La potenza della tua ignoranza Quanto è? Quando io sto in un dito E si mi fa Eh stiamo laggando pure qua Va bene dai ragazzi Io direi che per questa puntata Può essere tutto Vi ringrazio tantissimo Per la visione Da Dan Simo Grego Elia E' tutto Ciao a tutti Ciao a tutti